Bova Marina, tra qualche minuto verrà inaugurata la piscina comunale di Bova Marina. Siamo in compagnia di Fortunati Riti, una giovane mamma con la sua bambina. Come ti chiamo? Gaia. Qual è il significato della tua presenza qui Fortunata oggi con i tuoi figli? Mi fa veramente piacere essere qua, soprattutto perché reputo questa cosa un successo per Bova Marina. Un assoluto veramente successo, di cui Bova Marina ha proprio bisogno. Cioè Bova Marina e gli abitanti, i cittadini, noi stessi, perché intanto è qualcosa di completo, una realtà che ci fa onore. Cioè che è importante, penso, per ogni paese. E il mio augurio veramente è che possa iniziare e continuare e che possa essere utile per tutti, per i bambini, per gli adulti, per tutti quanti. Pensi di frequentare la piscina? Frequenterà la piscina? Assolutamente sì, me lo sono proposto e farò veramente i salti mortali per farlo, io e l'intera famiglia. E vuol dire qualcosa Silvia? Perché questa piscina, tranne il nonno, e non si sa, dobbiamo chiederglielo. Questa piscina è stata, i servizi di questa piscina verranno rivolti quasi esclusivamente, per la maggior parte, ai ragazzi, alle scuole. Già dalla fine di giugno il sindaco ha preso i contatti con le scuole. Ti piacerebbe frequentare la piscina? Sì. Ma ti piacerebbe anche diventare istruttore di nuoto? No. E bagnina? Ma tu sai nuotare? Sì. Chi ti ha insegnato? Eh, non mi ricordo. Chi? Non mi ricordo. Grazie. Grazie a voi.